allora amici del canale amici di fermo amici d'italia d'italia perché io sto vivendo questa bellissima esperienza a canale 5 mi hanno chiamato per questa bellissima trasmissione che va in onda ogni venerdì su canale 5 la sai l'ultima un'esperienza che sto vivendo con umiltà con eleganza con semplicità come sono io e quindi sono in questa pausa di registrazione e quindi devo dirvi che è una bellissima esperienza che sto vivendo mi hanno chiamato loro sono l'unico del nord est siamo in 15 in tutta italia quindi io mi sconto con gente anche di livello alto nel senso gente da roma in giù da parma in giù dove c'è un catena d'utenza grandissimo però io mi sto difendendo bene mi vedrete su canale 5 il venerdì dalle 21 e 30 presentato greggio grandi offite eccetera e quindi un'esperienza che sto vivendo come dicevo prima con semplicità anche perché come sapete questo non è il mio lavoro però un'opportunità che ho preso al volo pesante usurante ma bella e quindi volevo farvi partecipare di questa mia bellissima esperienza saranno sei puntate chiaramente non posso dire che puntata sono arrivato lo scopriete solo guardando circa 9 5 il venerdì sera quindi guardatemi purtroppo non posso fare basalette in friulano però qualche mandi mi è scappato e quindi vi auguro una buona visione sempre come dico io une robe vergognosissime grandi ciao da galax grazie 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 grazie